E' stato travolto da un tubo del metanodotto in un cantiere a Castel di Lama, dove si stava realizzando la rete nella zona industriale di Ascoli Piceno. Per il gelese Gianluca Caterini, 28 anni, non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno cercato in vano di sottrarlo al suo tragico destino. L'operaio è però deceduto al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni. Le indagini sono state avviate dai carabinieri del capoluogo marchigiano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo sfortunato operaio sarebbe rimasto schiacciato da un grosso tubo in acciaio sollevato da un mezzo meccanico. Le ferite riportate all'addome e al torace non gli hanno lasciato scampo. Il giovane lavorava per conto di una ditta della città del Golfo.